Vorrei iniziare con Michelangelo, con i cimiteri come spazi laboratori per un'educazione gratuita e inclusiva. Grazie. Grazie a te e grazie a voi. Vi sentite? Allora, innanzitutto vorrei iniziare questa presentazione ringraziando Giorgio e Martina perché credo sia la prima volta che ho la possibilità di condividere un momento con tanti ricercatori sul tema della morte dei cimiteri in Italia perlomeno, quindi sono molto felice. Mi scuso se non ho potuto assistere a molte delle presentazioni mattutine, ma trovandomi negli Stati Uniti le sette ore di fuso complicano un po' la mia vita. E ringrazio quelli di voi che sono qui a quest'ora, che in Italia è quasi l'ora dell'aperitivo, in un sabato sera per ascoltare questa presentazione sui cimiteri. Quindi grazie mille della vostra attenzione. Io ho preparato un PowerPoint, quindi se non vi dispiace provo a condividere lo schermo. Mi dite se lo vedete? Martina, si vede lo schermo? Sì, sì, sì. Perfetto, grazie mille, scusa, chiedevo conferma. Ecco, il tema del mio intervento è esattamente i cimiteri. I cimiteri non tanto come logico spazio per i defunti, ma come altrettanto logico spazio per i vivi, dal mio punto di vista. Una cosa che dico sempre ai miei studenti è di non aspettare una cattiva notizia o una cattiva ragione per visitare un cimitero. Ce ne sono tantissime ottime. E parte di quello che cerco di fare alla DePaul University a Chicago, dove lavoro, è esattamente quello di convincere e sospingere anche fisicamente i studenti a visitare dei cimiteri assieme a me. Chicago, come forse sapete, è una delle città più grandi e più importanti degli Stati Uniti, al tempo stesso estremamente ricca culturalmente ed estremamente complessa socialmente. Una città che ha, diciamo, nella sua area metropolitana circa 200 cimiteri, più o meno grandi, ovviamente più o meno importanti e più o meno famosi. e all'interno di un corso, ah, una cosa, io volevo dirvi che evidentemente questa presentazione è nella lingua più bella del mondo, nella lingua di Dante, però ho deciso di lasciare i testi delle slide in inglese pensando al fatto che magari è registrato questo intervento, andrà su YouTube, quindi anche persone che non necessariamente parlano l'italiano potranno magari guardarlo. Dicevo, Chicago è una città famosa per molte cose e meno famosa è la quantità e la qualità degli spazi funerari, dei cimiteri che lì si trovano, ed altrettanto poco conosciuta e sfruttata, a mio modesto avviso, è la qualità ed il potenziale di questi spazi, come spazi educativi. Questo vale per Chicago e vale per ogni altra città. Io sono perfettamente cosciente da italiano dell'immenso numero di cimiteri meravigliosi che abbiamo nel nostro paese, alcuni sono estremamente conosciuti e ben sfruttati dal punto di vista culturale, penso a Stajeno, penso al cimitero monumentale di Milano, altri meriterebbero secondo me una maggiore attenzione dal punto di vista politico, accademico e culturale, perché veramente abbiamo un potenziale enorme che non sempre sfruttiamo. Quello che io cerco di fare con i miei studenti alla DePaul è scoprire, esplorare Chicago a partire dalle città dei morti. Questo corso è un corso di dieci settimane, sono dieci incontri di quattro ore ciascuno e in alcuni di questi incontri noi fisicamente lasciamo l'università ed andiamo a fare ricerca ed esplorazione in questi cimiteri. È parte di un semestre intero che la DePaul University consacra alla città di Chicago, quindi ci sono tantissimi corsi che gli studenti possono scegliere per esplorare la città attraverso il cibo, attraverso la migrazione, attraverso la musica, attraverso l'arte e alcuni sono abbastanza coraggiosi, abbastanza matti da voler scoprire Chicago attraverso i cimiteri. E si tratta di una vera e propria esplorazione perché parte degli obiettivi pedagogici del corso è utilizzare per esempio mezzi pubblici per raggiungere questi spazi, per cui se da un lato questo limita il numero di cimiteri in cui possiamo fare ricerca, solo quelli più centrali, più vicini all'università, dall'altro permette a molti studenti che non sono di Chicago di cominciare l'esplorazione ancora prima che si arrivi nel luogo, nel cimitero, ma prendendo il trasporto pubblico, visitando differenti quartieri della città. E una volta che si arriva in alcuni di questi cimiteri si comincia un lavoro di vera e propria esplorazione più o meno etnografica. Io sono un antropologo quindi mi piace usare un vocabolario antropologico. Ovviamente l'etnografia richiede tempo, preparazione, molto spesso si tratta di studenti del primo anno di università, però noi effettivamente facciamo attività non solo sui cimiteri ma nei cimiteri, all'interno di questi spazi. Ovviamente alcuni cimiteri, uno in particolare Graceland Cemetery, possiedono un'infrastruttura anche ad uso, se vogliamo, turistico e culturale, questo è il loro centro per turisti e visitatori. Altri cimiteri non hanno ancora sviluppato questo aspetto turistico e culturale, ma hanno per esempio, come in questo caso, dei professionisti, dei lavoratori che hanno una passione infinita per la morte, per i cimiteri e per la storia della città. Questo signore che si vede al centro della foto, Michael Weidman, è una biblioteca vivente della storia di Chicago ed è il direttore del cimitero di Ross Hill. Quindi con i studenti, in genere classi di 25 studenti, noi scegliamo alcuni tra i cimiteri più importanti, anche più comodi, e effettivamente andiamo ad esplorare i vari aspetti per cui i cimiteri possono contribuire all'educazione, ricordando che sono spazi in Italia e in tanti altri paesi sono pubblici, in America sono privati, a me questa cosa un po' dispiace, però sono spazi privati aperti al pubblico. Quindi non si deve pagare ovviamente un biglietto, sono spazi che permettono a chiunque di poter avere accesso a cultura, arte, natura, educazione, senza doversi preoccupare dell'aspetto economico, che è quello che purtroppo accade in molti musei, in molti altri spazi. E quindi con gli studenti lavoriamo sull'aspetto, diciamo, paesaggistico, architettonico, sulla qualità dell'arte funeraria. Lavoriamo ovviamente anche con le personalità più o meno importanti e più o meno positive. Ho preso due esempi, qui a Chicago uno a sinistra è Jesse Owens, che credo tutti ricordino come il grandissimo campione di atletica leggera che vinse, se non sbaglio, quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. E dall'altro lato una figura molto più vicina a noi, dal punto di vista, diciamo, culturale, dal punto di vista identitario, ma certamente lontanissima da me dal punto di vista delle attività al Capone. Io sono sempre molto triste quando l'Italia negli Stati Uniti è rappresentata da questo tipo di personaggi. Ciò non di meno sono figure che hanno fatto la storia di Chicago, se vogliamo. Osserviamo, per esempio, come specifiche comunità, in questo caso c'è un antico settore ebraico, peraltro in stato di abbandono, in uno dei cimiteri che visitiamo, ma ci sono tombe di musulmani, tombe di Baha'i, tombe varie religioni. Osserviamo il multiculturalismo e l'aspetto multireligioso a partire dalle città dei morti. E lo facciamo, cosa piuttosto comune a Chicago, con qualunque clima, per cui non ci lasciamo, come dire, spaventare da temperature anche sotto zero. Chicago è una città bellissima, ma anche estremamente fredda. Ma scusate, ho sentito una voce, ma anche estremamente fredda. Quindi i cimiteri come luoghi e spazi di educazione. Questa è una cosa che io facevo già prima della pandemia di Covid ed è una cosa che evidentemente con l'arrivo della pandemia di Covid è diventata ancora più rilevante. Non sto a ricordare il biennio 2021. Ricordo, come almeno nel mio caso, molti studenti hanno voluto, in un certo qualche modo, utilizzare la pandemia come strumento di riflessione sulla morte, sulla precarietà della vita. E i cimiteri, vuoi o non vuoi, sono stati parte dell'incontro e dello scontro fra la pandemia di Covid e società come quella americana e italiana che sono state colte in preparate proprio perché da quasi cent'anni, da più di cent'anni, non c'era una pandemia. E i cimiteri sono stati importanti in molti aspetti della riflessione, io direi, educativa a proposito della pandemia e su altri temi, come vedremo. Per quanto riguarda la pandemia, una cosa che io ho fatto con i miei studenti è mostrare come i cimiteri possono essere innanzitutto dei musei di storia e salute pubblica. Per esempio, in molti cimiteri americani, ma anche di altri paesi, esistono tombe memoriali che ricordano per esempio la famosa febbre spagnola del 1918, una delle ultime grandi pandemie prima di quella di Covid. Visitando per esempio la città di Indianapolis c'è un cimitero, Crown Hill Cemetery, dove c'è un importante monumento a qualcosa che per fortuna non è diventata una pandemia, ma è stato e in un certo senso continua ad essere un'epidemia in molte parti del mondo, l'HIV AIDS. Ovviamente, quando si parla di Covid, tutti noi abbiamo, soprattutto noi italiani, pensiamo a ciò che è successo in Lombardia e in tante altre parti d'Italia, ma io che come alcuni sanno lavoro e ho vissuto in Brasile, lavoro negli Stati Uniti, per me la pandemia è stata anche un modo di trasmettere ai miei studenti la gravità della situazione in altre parti del mondo attraverso l'uso di immagini provenienti dai cimiteri. Quindi i cimiteri anche come spazio per rendersi conto di come la tragedia fosse su una scala maggiore di quello che si pensasse. Questo è un cimitero pubblico nella città di San Paolo, in Brasile. La stessa New York City, probabilmente la città più importante del mondo, ancora oggi una delle più avanzate, una delle capitali dell'umanità postmoderna, si è trovata a dover riscoprire, se non delle fosse comuni, delle sepolture d'agenza ed emergenza durante la pandemia. Chicago, la Chicago dove io faccio lezione nei cimiteri con i miei studenti, non è stata da meno. Quindi certamente per chi già lavora con i cimiteri come spazi di educazione, come classi universitarie all'aria aperta, la pandemia di Covid ha avuto un impatto notevole e direi che la cosa migliore che abbiamo cercato di fare è stato trarne profitto per riflettere sulla società a partire dalla crisi. Un aspetto che molti di voi credo abbiano già trattato questa mattina e che io voglio appena accennare è l'aspetto rituale. La pandemia ha anche sconvolto in un certo qual modo una ritualità della morte a cui c'eravamo in un certo qual modo abituati, funerali con regole di distanziamento sociale e via dicendo. Quindi i cimiteri come laboratori anche di riflessione quotidiana sull'impatto della pandemia. E negli Stati Uniti in particolare devo dire che il 2020 non è stato solo l'anno della pandemia, è stato anche l'anno di un'elezione politica estremamente complessa. Ci fu qualcosa che tra l'altro si ripete quest'anno, 2024, la concorrenza tra Donald Trump e Joe Biden per la presidenza degli Stati Uniti. La situazione era estremamente polarizzata. Quindi la società americana ha passato, c'è stato, va ricordato, l'omicidio di George Floyd a Minneapolis con le conseguenti rivolte. Quindi il 2020 è stato un anno particolarmente scioccante per gli Stati Uniti da tanti punti di vista. Un anno di estrema tensione, rabbia, paura, frustrazione. E in mezzo a tutto questo, con le città chiuse, con i luoghi normalmente di ritrovo chiusi a causa della pandemia. A Chicago non si poteva andare in spiaggia sul lago Michigan, non si poteva andare nei parchi, le attività indoor erano chiuse. I cimiteri sono diventati, io dico sempre una volta di più, un prezioso alleato per i vivi. Gli abitanti di Chicago, non solo i miei studenti, ma molti abitanti di Chicago hanno scoperto o riscoperto i cimiteri come spazi di sopravvivenza, di vita e di piacere, se vogliamo. Molti cimiteri negli Stati Uniti, a differenza di molti cimiteri in Italia, sono innanzitutto dei grandi parchi puntellati, costellati di tombe, lo spazio non manca negli Stati Uniti. La natura animale e vegetale è ricchissima. Graceland non è solo un cimitero, è anche un arboreto, quindi è un giardino botanico allo stesso tempo. Rose Hill, che è uno dei cimiteri più importanti che ho già menzionato, è una delle maggiori foreste urbane nel Midwest americano ed è un posto bellissimo da visitare e anche cimiteri meno conosciuti, meno famosi, situati alla periferia della città, come per esempio Bar Oak Cemetery nella periferia sud di Chicago, sono serviti come spazi di sfogo, di svago, di attività all'aria aperta, ripeto, in un contesto sanitario, politico e sociale estremamente complesso, estremamente turbolento come è stato il 2020-2021 negli Stati Uniti. La cosa importante, e arrivo alla parte conclusiva di questa presentazione, è che mentre gli abitanti di Chicago e con loro i miei studenti scoprivano e riscoprivano i cimiteri come spazi di vita, come spazi di attività, come spazi in cui respirare, imparare e continuare a stare insieme nonostante tutto, i cimiteri sono anche serviti come luoghi estremamente importanti per risvegliare una coscienza e una conoscenza civica su tante questioni. Questioni che magari non sono immediatamente viste come pandemiche o epidemiche, ma che sono profondamente parte del contesto sociale ed economico americano e che, devo dire, nonostante l'enorme potenziale di questo paese, ogni giorno manifestano la loro tragica potenza in molti modi. Quindi per esempio visitare un cimitero di Chicago, visitare uno dei tanti cimiteri di Chicago ha per esempio significato confrontarsi con l'ingiustizia sociale e con la povertà così presente in quello che ancora oggi di nuovo è il paese più ricco e potente del mondo. Colgo l'occasione per menzionare un antropologo, una figura che a me piace molto, è morto purtroppo due anni fa, Paul Farmer, che diceva sempre che la più grande malattia, la più grande questione di salute non è il cancro, il cuore, è la povertà. La povertà è la più grande malattia, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti in cui purtroppo la salute e l'educazione non sono diritti ma sono privilegi. Quindi visitando i cimiteri è facile accorgersi di come l'ingiustizia sociale sia evidente. Le città dei morti illustrano in maniera molto chiare la disuguaglianza che esiste nelle città dei vivi. Rose Hill, la foto di destra, è un cimitero ricco, benestante, di chi può spendere centinaia di migliaia di dollari per un mausoleo nelle città dei morti che rispecchia la villa nella città dei vivi e Bar Oak Cemetery, nella foto di sinistra, rappresenta l'opposto, la precarietà nella morte oltre la precarietà nella vita. Penso a un tema molto importante come il razzismo strutturale negli Stati Uniti, il razzismo sistemico. È una società, lo sapete tutti, immagino siamo sempre abbastanza interessati a quello che succede negli Stati Uniti, in cui le questioni razziali che poi l'antropologia accetta fino a un certo punto perché sappiamo che razza non è un termine biologico, è un termine diciamo socioculturale, ma forse proprio per questo è importante rifletterci negli Stati Uniti e quindi magari durante la pandemia cercando un posto dove andare e visitare la tomba di Emmett Till nel cimitero di Bar Oak significa confrontarsi con un ragazzino di 14 anni che venne linciato perché aveva sorriso ad una donna bianca. È una questione di 70 anni fa ma che ancora oggi purtroppo trova eco nel numero enorme di persone che muoiono negli Stati Uniti anche a causa del colore della loro pelle. Incontriamo figure che hanno fatto la storia anche della resistenza e della resilienza delle minoranze. Jack Johnson, il primo pugile afroamericano a diventare campione del mondo di box, Ida B. Wells, una delle primissime donne di colore ad essere al tempo stesso una giornalista, un attivista e un punto di riferimento per la comunità afroamericana ma negli Stati Uniti sento delle voci, forse qualche spirito cimiteriale e inoltre la questione della violenza che è un'altra epidemia estremamente presente nella società americana e lo dico forse chi organizza può chiudere il microfono di qualcuno. Sì, 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 sì. Grazie Martina, scusate. Ciao, altrettanto. Perdonami Anna, se non è un'audio. Però, per me, guarda che loro adesso sono nelle presentazioni, non hanno anche dormito. Magari quello che dicono loro può essere anche più interessante, possiamo anche continuare ad ascoltarli. Scherzo. O no? Dicevo, la violenza come epidemia presente nella società americana e nelle città americane. I cimiteri rappresentano molto bene la relazione complessa, controversa, tra la società americana e la violenza. I cimiteri sono dei musei all'aria aperta del coinvolgimento americano in praticamente tutte le guerre del XX e del XXI secolo, comprese le più recenti. Ma i cimiteri americani, i cimiteri di Chicago, rappresentano anche la violenza interna data dall'enorme numero di giovani che muoiono nelle strade e nelle piazze di Chicago e di altre città a causa di sparatorie, a causa di regolamenti di conti, a causa di guerre di genere. Quindi, i cimiteri importano, sono importanti, concludo, 30 secondi, non solo perché dobbiamo rispetto e attenzione ai morti. I cimiteri sono importanti perché permettono ai vivi di comprendere nel modo più ricco, profondo e, nella mia opinione, affascinante possibile, le città e le società e le dinamiche dei vivi. Ancora una volta, i cimiteri sono alleati dei vivi, prima ancora che città dei morti. Per me è molto importante, ogni volta che posso, ricordare e raccomandare, da un lato, il rispetto che si deve ai morti ogni volta che si organizza un'attività culturale in un cimitero e, dall'altro, l'importanza di organizzare attività culturali nei cimiteri perché è, dal mio punto di vista, terribilmente sbagliato non cogliere l'occasione di sfruttare ancora una volta degli spazi ricchissimi di storia, di arte, di cultura, di libero accesso che permettono un accesso al sapere che sia aperto, democratico e disponibile per tutti. E grazie mille per la vostra attenzione. Spero di non essere andato un po' lungo. No, no, perfetto. Perfetto Michelangelo, grazie. Abbiamo ancora qualche minuto prima di passare la parola a Nicola. Mi scuso per il disguido tecnico, ma purtroppo non riesco a dire l'audio. No, sicuro ti rifai, Martina, perché li sentivo molto forti nel mio computer, quindi non riescivo a parlare da sentire. Ti ringrazio anche. C'è qualcuno che ha qualche domanda prima della sottoscritta? Qualcuno ha un pensiero? Allora, io avrei tre riflessioni. Una te la lancio così, se mi perdoni, ma insomma con sincerità mi veniva da chiederti, ma perché sei a Chicago? Scusa, ovviamente era una riflessione per dire che hai davvero esposto una ricerca, un lavoro incredibile, quindi mi chiedevo ma perché non sei qui nel nostro paese? Sono a Chicago perché ho studiato conservazione dei beni culturali e antropologia in Italia, ossia due discipline assolutamente inutili in Italia, due discipline di cui non c'è bisogno in Italia, due discipline che ti fanno sembrare un ottimo soprammobile per la società italiana. E questo secondo me è molto per colpa tanto degli antropologi soprattutto e dei conservatori del patrimonio che non riescono a far capire alla società l'importanza di queste discipline. Se noi antropologi non riusciamo a parlare un linguaggio che tutti capiscono, non possiamo pretendere poi che la gente ci consideri importanti. Io poi tra l'altro ho lasciato l'Italia da vent'anni, sono stato tanti anni in Francia, in Brasile, chissà un domani magari torno, però per adesso sono a Chicago e devo dire che è una bellissima esperienza in un paese che cominciava estremamente complesso ma che permette dal punto di vista di chi fa ricerca di avere delle possibilità che, sottolineo, purtroppo non sempre o quasi mai si hanno nel nostro bellissimo paese. Grazie. Allora la seconda sarebbe un'apertura di un altro mondo, abbiamo solo qualche minuto, però prima della seconda ti passo subito alla terza, che è un riferimento alla presentazione di Stefania e Anna Giulia. Abbiamo parlato anche di corpi dati in donazione alla ricerca e vorrei chiederti così conferma per un pensiero, per uno studio che ho fatto, se non ricordo male, negli Stati Uniti, probabilmente dipende da ogni Stato, ma se non ricordo male è proprio causa della povertà, le persone che sono povere, nel senso che non possono permettersi un rituale, lasciano il loro corpo in donazione alla ricerca, proprio per questo motivo. Mi sai confermare o è un'idea o no? Non posso confermarlo direttamente, nel senso che non è un tema che ho approfondito in maniera, diciamo, specifica, antropologica, qui a Chicago. È vero che negli Stati Uniti, nonostante il benessere, diciamo, di una parte del paese, c'è una grande parte della popolazione che oltre che a soffrire di precarietà in vita, soffre di precarietà anche nella morte. Faccio un esempio molto banale e molto brutale. Qui a Chicago esiste un ufficio specifico della comune, diciamo, della città, che si occupa di corpi e resti umani non identificati, ritrovati nel corso dell'anno, soprattutto durante l'inverno. Soprattutto sono, diciamo, persone che vivono per strada, ma a volte si tratta anche proprio di resti umani, di arti, di gambe. Ovviamente la città, parliamo di molti milioni di persone, ma si tratta di un numero rilevante. Di conseguenza può capitare che alcuni di questi corpi o alcuni di questi arti passino anche per un processo di studio accademico. Così come capita che persone lasciano proprio volontariamente questa possibilità aperta. Quella che veniva chiamata American Way of Death, il modo americano di pensare la morte e il cadavere sta cambiando. Non solo la cremazione sta diventando sempre più popolare, in genere perché più economica, ma perché permette anche di fare tantissime cose a prescindere dai cimiteri. Un libro interessante uscito l'anno scorso si chiama I cimiteri stanno morendo? È un libro scritto qua negli Stati Uniti, perché sempre più le persone pensano a delle possibilità di gestione del corpo o più spesso delle ceneri a prescindere dal cimitero. Quindi si fanno cremare, magari spargono le ceneri in dei luoghi che amano, fanno dei gioielli, dei tatuaggi con le ceneri. E ancora una volta il mio interesse è nel sapere cosa fare con i cimiteri se i cimiteri non sono più l'unica e la più logica destinazione dei morti. Cosa facciamo con questi spazi meravigliosi? E io personalmente credo che le attività culturali possano essere un aspetto importante. Grazie. Grazie a te. Sì, allora al secondo punto, poi lascio la parola a Nicola Ferrari, ma il secondo punto era una riflessione al seguito di ieri. Ci siamo incontrati, grazie a Nicola, per un incontro sulla death information and death education. E quindi proprio cogliendo la tua presenza in America, volevo chiederti così una sua riflessione, perché credo che anche nell'ultima slide ho visto educazione o education e io ci avrei aggiunto una death perché credo che questo sia comunque un modo di attuare, ecco, un approccio educativo. Sì, assolutamente, e so che domani c'è Cami Fletcher come presentatrice, quindi è un tema che anche lei immagino affronterà, è una prospettiva molto affascinante, quella dei Radical Death Studies. Devo dire che i Stati Uniti in questo senso si giovano anche della presenza di un numero enorme di università e quindi hanno un numero di ricercatori che si occupano di vari aspetti dello studio della morte, del morire, del fine vita e in parte anche dei cimiteri. Non siamo in molti. Per esempio, una cosa che pochi sanno è quanto importante sia in Brasile lo studio dei cimiteri, della morte e dell'aspetto educativo della morte. È una associazione brasiliana di studi cimiteriali che è molto attiva anche sull'aspetto educativo. Io ho molti colleghi che lavorano con questo tema, per cui a me fa molto piacere, Martina, che tu, Giorgio e tutti gli altri stiate costruendo insieme a noi sempre più questo spazio di educazione alla morte, ma anche con la morte e con gli spazi della morte. E qualora ci fosse bisogno anche di collegarsi con altre realtà, quelle che almeno io conosco, il Brasile e gli Stati Uniti, sono assolutamente contento di farlo con voi e con magari dei studenti che vogliono fare, non so, delle tesi, dei dottorati. A me piace molto coinvolgere, piace parlare con dei colleghi e ricercatori già più adulti, ma chiaramente quando uno pianta un semino in uno studente ha più possibilità che il campo sia fertile e che nasca qualcosa di buono. Grazie. Abbiamo Federica con una domanda. Sì, scusa, una cosa velocissima. Michelangelo, se puoi per favore scriverci in chat il titolo del libro che hai citato poco fa, perché ho provato a cercarlo al volo su Google, ma forse ha un titolo inglese e cercato in italiano e non l'ho trovato. No, ti sei tolto l'audio, Michelangelo? Scusami Federica, sì, appena finisco qua, apro la mia cartellina di PDF e vi metto il titolo specifico nella chat. Assolutamente. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, prego. Bene, ci sono altre domande per Michelangelo, qualche osservazione a condividere? Grazie infinite, Michelangelo. Grazie a voi per l'attenzione, grazie mille. Grazie a voi per l'attenzione, grazie mille.